Il Modena non lo attacchi facilmente se vai a intasare tutti quei corridoi centrali, dove i due difensori centrali sono estremamente solidi, chiunque giochi, mi riferisco a Piacentini, Silvestri, Baroni, Pergreffi, Ingegneri, anche se ora Ingegneri è fuori lista, hanno sempre il play da schermo davanti ai due centrali, quindi lì è chiaro che è una zona in cui è molto intasata. Io penso che per farmare al Modena devi intanto essere molto bravo nella prima costruzione, per saltare la pressione, il pressing dei primi tre attaccanti e poi devi essere molto abile a giocare sia in ampiezza che nella profondità, ma questo non è che vale per Modena, ma per tutte le squadre. E' chiaro che più riesci a far fare una partita sulla difensiva al Modena, a quei calciatori che amano avere il pallone tra i piedi, quanto più magari riesci a mettere in evidenza quei pochi difetti che possono avere. Sappiamo, e non è presunzione, ma spero e mi auguro che la squadra faccia una partita di personalità, di coraggio, per provare a giocarsela sapendo che è un'impresa titanica da fare. Però ecco, io penso che dobbiamo essere molto bravi a fare quello che solitamente facciamo, quindi giocare bene a calcio e veloci. Io metterò in campo quelli che penso stiano bene fisicamente, al di là di quanto minutaggio hanno avuto nelle partite precedenti, ma se ho garanzie fisiche, perché sicuramente domani ci sarà una partita dove bisognerà correre forte e tanto, però se stanno bene vanno in campo e sceglierò in base alla strategia che vogliamo attuare contro i nostri avversari. Io con tutti gli scongiuri del caso voglio fare un monumento al capitano, perché in tre partite ravvicinate ogni tre giorni, ha fatto sempre 12 km. Questo andrebbe clonato veramente a Rigoni e spero che domani ne faccia altrettanti, ma veramente sta correndo come un ragazzino e sta recuperando, ma questo è anche la crescita esponenziale dal punto di vista fisico anche di Soprano, che solitamente negli impegni ravvicinati aveva sempre accusato. Si vede che ormai hanno metabolizzato le intensità, i recuperi, le velocità e quindi di questo sono molto soddisfatto. Però è chiaro che devo gestire le tante energie e spese, perché per ora non voglio dire niente, ma siamo andati bene, non è successo nulla di negativo e quindi spero di finire questo tour de force veramente sfiancante, continuando ad avere tutto il gruppo disponibile. E Jacoponi è chiaro che è un anno che era inattivo e deve ritrovare minutaggio, lo deve fare con gradualità, perché anche lui non deve perdere né allenamenti e non possiamo permetterci di incorrere in infortuni, anche perché gli errori che sono stati commessi da Simone sono proprio di mancanze di campo, di distanze, di letture della palla, di velocità di esecuzione nella gestione. Fortunatamente dal punto di vista fisico però sta rispondendo molto bene.